Come ha precedentemente spiegato la dottoressa Memoli, questo evento che si svolgerà a Salerno mercoledì 9, rientra nell'ambito di un'iniziativa nazionale ed è stato fortemente voluto da noi lo svolgimento proprio a Salerno come prima sede nell'Italia meridionale e questo per sensibilizzare i cittadini su delle problematiche dilaganti e contemporaneamente trattate anche in maniera poco appropriata. Infatti è importante avere come riferimento lo specialista allergologo perché è l'unico che ha le competenze per poter affrontare queste patologie nel modo giusto, avviare dei percorsi diagnostici e terapeutici idonei alla patologia. Parliamo per esempio allergie alimentari in cui molte volte il paziente fa un'autodiagnosi, si avvia a diete incongrue e questo non solo è un procedimento dannoso ma oltretutto avvia a delle situazioni che possono dare carenze nutrizionali importanti. Quindi importante rispetto a un sospetto clinico rivolgersi allo specialista allergologo ai centri che effettuano i test giusti per ogni patologia. Parliamo dell'allergia a veleno di menotteri per esempio in cui i centri di riferimento sono pochissimi eppure si tratta di una patologia gravissima che può portare a morte il paziente e quindi opportuna una diagnostica specifica per identificare il veleno a cui si allergici e poi eventualmente avviare anche un'immunoterapia, quindi una terapia desensibilizzante per questo tipo di allergia. È importante per esempio fornire il paziente allergico di un presidio idoneo ad affrontare l'emergenza, l'adrenalina autoiniettabile. Questo è l'unico farmaco che riesce a salvare la vita nel momento dell'emergenza e quindi fornire al paziente allergico un vero e proprio piano d'azione per i momenti di emergenza. Questo è un progetto che è stato ideato dall'Associazione Allergologi Immunologi del territorio e dell'ospedale ed è un progetto su scala nazionale definito proprio allergicamente. Una giornata di sensibilizzazione su questa malattia che ormai è divenuta talmente attiva e abbiamo paragonato l'allergia come un albero perché da quest'albero ci sono tantissime foglie e queste foglie rappresentano l'allergia alimentare, l'allergia respiratoria, l'allergia cutanea, l'allergia praticamente da veleno degli menotteri e in questa giornata ci saranno professionisti che quotidianamente ogni giorno vengono a contatto con i pazienti quindi vivono queste problematiche che sono in grado di dare ai cittadini salernitani delle indicazioni ma soprattutto di mettere anche in evidenza quali sono i centri anche sul territorio che si occupano di allergie. Questo è un evento che io ho fortemente voluto con la dottoressa Montera la quale fa parte del direttivo nazionale di questa associazione, la dottoressa Montera che peraltro lavora sul nostro territorio all'ospedale di Curteri e che da sempre si è occupata di allergia. Quindi allergicamente con un'allergologia sociale il 9 maggio nel Salone dei Marmi dalle 9 alle 13 ci saranno questi professionisti e ci sarà anche la possibilità di fare dei test di spirometria.